Il fine nobile di aiutare si celebra la giornata mondiale dei poveri, gli appuntamenti al pantheon e al santuario. Si celebra domani, domenica 17 novembre, l'attuale edizione della giornata mondiale dei poveri. La giornata è una delle iniziative nate dal giubileo della misericordia affinché la Chiesa, attraverso le azioni tangibili delle comunità cristiane, diventi sempre più segno della carità di Cristo verso gli ultimi bisognosi. Questa giornata si propone di incoraggiare innanzitutto i fedeli a opporsi alla cultura dello scarto e dello spreco, abbracciando invece la cultura dell'incontro. Papa Francesco ha scelto un motto significativo in quest'anno dedicato alla preghiera, ormai all'inizio del giubileo ordinario del 2025. La preghiera del povero sale fino a Dio. Questa giornata rappresenta per tutte le carite una cosiddetta straordinaria di animazione. Siamo chiamati a educare la carità, ciò significa impegnarci personalmente e aiutarci reciprocamente sia come singoli cristiani sia come comunità a tradurre in azioni concrete il progetto di Dio. Nella parrocchia Santo Massapostolo al Pantero in Siracusa alle 18 la preghiera del Santo Rosario e alle 18.30 la celebrazione eucaristica, il termine raccolta alimentare a favore della mensa parrocchiale. Ieri la catechese sul messaggio del Santo Padre per la giornata mondiale dei poveri, domani alle 9.30 la celebrazione eucaristica e la raccolta alimentare a favore della mensa. Alle 12 pranzo di festa alla mensa parrocchiale e alle 18.30 la celebrazione eucaristica. Nel Santore della Madonna delle Reganclime di Siracusa si potranno portare alimenti che saranno distribuiti per sostenere le famiglie particolarmente indigenti. Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa con la partecipazione dei fedeli e dei volontari della Casa Carità San Giuseppe del Santuario Madonna delle Lacrime.